Qual è la desolazione? Non semplicemente un incidente di percorso, una disavventura che dovremmo, vorremmo evitare, ma tante volte, lo riconosciamo, nel nostro cammino cresciamo molto di più attraverso la desolazione che non attraverso la consolazione. Anche se, di sicuro, noi speriamo e desideriamo sempre camminare soprattutto nella consolazione di Dio. Nella consolazione di Dio sentiamo che il vento soffia nelle vele della barca della vita e la barca quindi corre veloce. Nella desolazione abbiamo l'impressione di essere lasciati più a noi stessi, come se noi dovessimo remare in un mare piatto, senza vento. Ma questo nella desolazione presenta, come dicevo prima, varie possibilità e varie lezioni. Intanto ci rende più costanti, più stabili. Cioè è nella desolazione che noi affermiamo che non abbiamo bisogno sempre della consolazione di Dio per camminare nella via che Lui ci traccia. Come se avessimo sempre bisogno di una dolcezza da parte Sua, di un dono speciale. Dio vuole non darci della sua consolazione, ma vuole anche che diventiamo persone mature, adulte, che sappiamo entrare in relazione con Lui in questo modo. E la desolazione ci permette di rafforzarci. Quando anche non sentiamo Dio non perdiamo la fiducia che comunque Edi è il Signore della nostra vita. Non possiamo passare alternativamente, lasciarci guidare da quelle che sono le nostre impressioni e pensare quindi che in un certo momento Dio è presente e in un altro momento Dio è assente. Una cosa è ciò che crediamo e un'altra quello che sentiamo. La desolazione ci fa crescere in questa distinzione tra ciò che sentiamo e ciò che invece crediamo radicalmente. E non solo, ma anche la desolazione ci permette di conoscere meglio noi stessi nei nostri punti forti, ma anche nei nostri punti fragili. Perché i pensieri che nascono nella desolazione sono estremamente significativi. Ci dicono, ci parlano di quelle che sono le nostre fragilità, le nostre debolezze. È lì che veniamo nella desolazione messi alla prova di più. E quindi nella desolazione conosciamo di più noi stessi. Ecco, magari mi è costato molto fare una certa scelta perché mi ha esposto. Io sono una persona che è particolarmente insicura e quindi che ha bisogno sempre di cercare conferme, sicurezza. Nella desolazione ci sentiamo improvvisamente lasciati a noi stessi e sentiamo quanto è importante per noi proprio questo, avere delle sicurezze che lì ci mancano. E questo ci fa capire di più questo punto come un punto essenziale che magari potrebbe limitare la nostra libertà, ma che proprio nella desolazione io imparo con la grazia di Dio sempre a non rendere schiavizzante. Cioè un punto che esiste, una mia fragilità, ma che non mi condiziona, non mi limita. Quindi la desolazione non è, come abbiamo detto prima, un tempo in cui prendere delle decisioni per cercare e trovare la volontà di Dio, ma è un'esperienza fondamentale per prepararci poi, crescendo nella libertà, nella conoscenza di noi stessi, nella costanza, per prepararci a quella consolazione che successivamente sarà il tempo in cui il Signore mi rivela la sua volontà. Grazie.